Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn, che cosa sono gli influencer? Beh, sono persone che possono aiutarti. Allora, gli influencer non sono quelle che immagini, sono persone autorevoli che ti danno la possibilità di essere più visibile. La cerchia attorno a te di influencer deve darti una mano a, come dire, far capire cosa fai, far capire chi sei. Vai a vedere l'evento di una persona che ammeri, riesci a intervistare questa persona. Perché? Perché hai lavorato bene di pubblica relazione e perché ti sei fatto conoscere o fatta conoscere. A questo punto questa persona, questo, questa influencer potrà darti delle occasioni. La vicinanza con queste persone già ti eleva, perché sono persone che hanno fatto qualcosa più di te. Quindi mi raccomando, scegli il tuo influencer da mettere all'interno della tua cerchia di persone. Bene, questo è tutto, mi raccomando, esagera sempre!